Vi ricordo che dopo il telegiornale andrà in onda uno speciale del Tg1 ed ora in prima mondiale tv in diretta Pink Floyd a Venezia, un concerto per l'Europa trasmesso in stereofonia nelle zone già raggiunte da questo servizio. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 the moon, we should wear the wall. Prima di oggi la storia dei Pink Floyd ha vissuto diverse stagioni, quella iniziale all'alba degli anni 60, quella affidata al fragile est di Sid Barrett e quella dominata dalla personalità di Roger Waters, iniziata quando Barrett ormai definitivamente perso sulla strada dell'LSD fu sostituito da David Gilmour. L'integrazione della musica con l'arte è sempre stata uno degli elementi caratteristici del lavoro dei Pink Floyd, basti pensare al celebre film girato nelle rovine di Pompei o alla recente esibizione a Bersailles, autentico preludio alla grande Kermesse di questa sera. Anche il cinema è stato uno degli interessi di Gilmour e i compagni che hanno inciso diverse colonne sonore, tra le quali la più celebre rimane quella incisa per Zabrisky Point di Michelangelo Antonioni. Ai Pink Floyd sarebbe stato comunque sufficiente aver inciso The Dark Side of the Moon per entrare nell'Olimpo del Rock. The Dark Side of the Moon è uno degli album più venduti della storia del rock. Dal 73 è stato per 600 settimane in classifica e ha venduto 15 milioni di copie. Siamo tornati in diretta, le immagini che vedete sono quelle del bacino della laguna di Venezia di fronte a San Marco dove la gente è assiepata come vedete su tutti i tipi di imbarcazioni possibili davanti alla grande chiatta che sta per ospitare il concerto di Pink Floyd. Un pizzico di storia del gruppo l'abbiamo fatto, vale la pena ricordare che sono veramente una formazione da annoverare nel Guinness dei Primati. Hanno venduto più di 100 milioni di dischi, 7 dei quali soltanto in Italia dove hanno un seguito di pubblico enorme, forse sono la band che per il pubblico italiano incarna lo spirito e l'immagine del rock'n'roll e soprattutto un disco, Dark Side of the Moon, come ha detto lo stesso Biamonte prima nella scheda, ha in classifica dal 1973 ininterrottamente negli Stati Uniti ed ha addirittura un impianto di produzione di complete disc che stampa unicamente quell'album che è andato ancora una volta l'anno scorso al numero uno delle classifiche di vendita. Il tour che si conclude questa sera è iniziato nel settembre dell'87, è stato seguito da quasi 6 milioni di persone in 15 paesi diversi, 2 milioni e mezzo di persone l'hanno seguito in Europa e ben 420 mila spettatori nei concerti italiani in due diverse tornate di esibizione. Nel frattempo i due registi del programma, Wayne Isham ed Egbert Vaness, hanno dato ancora meglio la sensazione di questa cornice incredibile in cui si svolge questa sera il concerto. mancano ormai poco meno di 7 minuti all'inizio del grande concerto dei Pink Floyd. Sono passati 20 anni esatti dallo sbarco sulla Luna, la ricorrenza è proprio di questi giorni e nel 69 la BBC, la televisione pubblica inglese, usò proprio la musica dei Pink Floyd come commento per quello storico evento, ma non è finita. Gli astronauti della Soyuz hanno portato nello spazio l'ultimo disco dal vivo che i Pink Floyd hanno realizzato durante questa tournée, proprio il concerto che ascolterete questa sera. Non sono state solo rose e fiori, il concerto dei Pink Floyd è stato accompagnato da polemiche molto aspre fino all'ultimo minuto, tanto da mettere in forza anche lo spettacolo di questa sera. Alla fine, come sempre, ha vinto il classico compromesso all'italiana. Il compromesso in che cosa consiste? Si è arrivato all'abbassamento del volume a 60 decibel, questo volume così non danneggia i monumenti di piazza San Marco. Questo compromesso ha salvato anche questo incontro artistico che si svolge nell'ambito di un'antichissima festa popolare veneziana, la festa del Redentore, che risale al 1578. Una festa che è denominata, tra l'altro in maniera molto suggestiva, la notte famosissima. Cos'era accaduto? Dal 1576 al 1578 Venezia ha vissuto una terribile pestilenza. Il senato di allora fece il voto di innalzare un tempio in onore del Cristo Redentore nell'isola della Giudecca se la peste fosse finita, aggiungendo l'obbligo a tutti i veneziani di recarsi al Tempio ogni anno in solenne processioni. Quando la peste finì il Tempio venne edificato su un disegno di palladio. Devo dire che è anche una grande tradizione popolare, questa che si ripete ogni anno, tutte le barche vengono illuminate, un colpo d'occhio suggestivo lo potete vedere benissimo, su queste barche ci sono dei piatti veneziani che vengono consumati con grande allegria, insomma una grande festa popolare che si conclude con grandi pochi d'artificio. Vale la pena di ricordare che un così vasto numero di persone in Italia è un vero e proprio record, non c'è mai stato un concerto italiano seguito da così tanto pubblico, possiamo ricordare altri eventi curiosi e particolari nel rock, nella storia del rock come lo stesso concerto di Pink Floyd a Pompeio, quello che i Grateful Dead tenero qualche anno fa davanti alle piramidi in Egitto, ma sono i Pink Floyd senza dubbio ad amare i Colossal e a rinnovare l'appuntamento con il pubblico in questi appuntamenti appunto molto curiosi come accade per il loro concerto a Berlino Ovest davanti alle porte di Brandeburgo che richiamò decine di miglia di persone dall'altra parte del muro a Berlino Oest o ancora il clamoroso spettacolo di The Wall con il più grande palco mai realizzato per un concerto rock lungo ben 160 metri sul quale veniva costruito durante il concerto un vero e proprio muro che dopo l'intervallo veniva simbolicamente distrutto. E adesso bisogna dire che ogni tanto parte un suono che fa scaldare il pubblico perché si pensa che il concerto sia partito. Tanto un'altra cosa volevo aggiungere è questa, noi abbiamo dato una stima di 200.000 persone, in realtà sembra siano molte ma molte di più. Nel passato i Pink Floyd hanno realizzato collaborazioni d'autore di grande rilievo, questo sempre per spiegarli meglio. Hanno firmato con la loro musica la scena delle esplosioni ripetute, una scena rimasta nella memoria di tutti nel film Zabrisky Point di Michelangelo Antonioni, il film che descriveva con grande lucidità visionaria la fine di un'epoca, gli anni 60, un film che è entrato nella storia del cinema e chi non ricorda, appunto lo diceva anche Biamonte nella scheda, il film di Alan Parker The Wall, tra l'altro un film proibito dal governo razzista sudafricano di Bota e anche quello è stato un altro capolavoro dell'arte visuale e poi la collaborazione con Rolampati per un balletto ispirato a Maja Kosti. Il concerto che vedrete questa sera comunque non è esattamente il Momentary Lapse of Reason tour che avete magari molti di voi seguito dal vivo, si tratta di una versione ridotta studiata in maniera precisa e specifica per la resa televisiva e vale la pena ricordare anche che viene ripreso questo concerto da 15 telecamere quindi probabilmente sarà uno spettacolo, nello spettacolo proprio il seguirlo in televisione. Il concerto durerà un'ora e mezza, 88 minuti per la precisione e si aprirà con uno dei brani più classici dei Pink Floyd che è Shine On Your Crazy Diamond per poi seguire con gran parte del materiale del nuovo disco e quindi una lunga selezione di classici dei Pink Floyd, brani che hanno portato il gruppo ad essere quello che è oggi, un gruppo che forse per primo ha saputo fondere linguaggi diversi, momenti spettacolari diversi e rendere il rock un qualcosa che non è soltanto musica ma è anche movimento, cultura e spettacolo. Per rendere al meglio lo spettacolo, per rendere lo spettacolo più suggestivo e anche più preciso i Pink Floyd hanno computerizzato tutto, è stato studiato attimo per attimo al computer. Questo dei Pink Floyd a Venezia è questo concerto per l'Europa, è il fatto di costume, il fatto di musica rock che Rai 1 propone legato appunto alla musica per il 1989, due anni fa nel 1987 c'era stata la diretta del tour di Madonna da Torino e nel 1988 un altro avvenimento straordinario, il concerto di Prince da Dortmund. Questo spettacolo che si muove tra sogno e incubo come vedrete perché le luci sono molto suggestive è stato voluto a tutti i costi dai Pink Floyd che per questa serata hanno speso 2 miliardi. Per allestire lo spettacolo hanno lavorato 500 persone, insomma uno sforzo non comune, degno però della cornice che ospita questo concerto. Lo spettacolo, lo sottolineiamo ancora, non è un comune concerto rock, è un gioco artistico di grande livello. C'è chi ha paragonato i Pink Floyd, forse esageratamente, a Vivaldi e a Gershwin, sicuramente un paragone molto azzardato. Ma di fatto la musica dei Pink Floyd è una delle colonne sonore del nostro tempo. Vogliamo fare anche un po' di cronaca rosa, diciamo che si erano annunciati moltissimi ospiti illustri ad assistere a questo concerto. È piuttosto difficile avere notizie attualmente in città perché gli alberghi sono isolati. che c'era Woody Allen, Tom Cruise, Mia Farro, due dei Duran Duran, Simon Le Bon. E poi chissà quanti altri proprio nelle barche che vedete davanti al palco. Parlava anche di zucchero forraciari. Esatto. Comunque la partecipazione del pubblico è stata veramente esemplare, vogliamo giustamente sottolinearlo. Finora si è svolto tutto nella massima calma e nel massimo ordine. Io credo che siano per essere ultimati i preparativi davanti al palco l'assistemazione delle barche. Manca proprio pochissimo. Sta per cominciare uno spettacolo memorabile. Stiamo per lasciarvi con il delicato suono del tuono dei Pink Floyd. Ci sarà qualche secondo di nero, un particolare tecnico necessario per mettere in onda la sigla dell'Eurovisione. Allora, vi auguriamo buon ascolto. Ci risentiremo più tardi con il concerto dei Pink Floyd. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti